Ciao amici, oggi realizzo questo video per far vedere il prodotto a 360 gradi e allora stiamo parlando di questo zainetto tattico, militare per fare trekking per qualsiasi uso, vedete? Per fare anche soft hair niente, è in tessuto, in aglio ben rifinito, ha diversi scomparti come si può vedere da qui all'interno, vedete? Ha diversi scomparti, praticamente uno scomparto nella parte anteriore, poi abbiamo un altro scomparto con cerniera qui nell'altra parte e anteriore, vedete? Poi due tasche laterali, due tasche laterali, anche appunto per portarlo faccio portare come zaino, prendiamo lo zaino, le cinture, vedete? Un'altra tasca qui di lato, faccio vedere anche all'interno questo qua in marone, perché ci sono tre colorazioni, il nero, come vediamo, è questo qua marone beige o questo verde militare? questo verde militare? Vediamo, questo è l'interno, faccio vedere anche all'interno com'è composto, è molto capiente, vedete? Realizzo i video in modo da far vedere bene com'è composto, perché magari le foto non rendono. le misure misurano, allora prendiamo questo, allora, abbiamo 40 cm come altezza, 40, per una larghezza di quasi 32, 32 cm, e come spessore abbiamo un 16 cm, poi diventa, cose si mette. niente, per qualsiasi informazione mi potete contattare, il tutto viene spedito con Corriere SDA. Un saluto, alla prossima, un saluto da Giuseppe.